Ecco appunto, volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi insomma dell'opportunità, è stata una sorpresa, devo dire io ho sempre fin dai tempi dell'università, dello studio, avrei desiderato avere un metodo di studio, ma infatti lo dicevo nella pausa a mio marito, pensa che è strano, se per giù siamo coetane e sentire te che dicevi che hai adottato questi metodi dai tempi dell'università, hai studiato, io ho avuto le mie difficoltà nell'università, quindi comunque pensare che parallelamente nella mia vita con la mia stessa età c'era un'altra persona che adottava delle tecniche, io ho avuto tutte le difficoltà, magari ci fosse stato internet ai miei tempi. Per questo libro, perché gli altri l'hanno già visto, per questo libro io ho fatto il corso. Ah ecco. Capisci perché? Non sapevo neanche appunto dell'esistenza, anche se ho sempre detto anche con i miei figli l'importante è imparare un metodo di studio, poi ci troviamo in un particolare familiarmente periodo della nostra vita in cui abbiamo bisogno insomma degli aggiornamenti eccetera, la piena fiducia lo dimostra il fatto che abbiamo iscritto tutta la famiglia, quindi ai diversi ragazzi ho sempre chiesto ma voi prima del metodo avevate dei vostri, già delle vostre tecniche? Perché penso magari se uno già prima ha delle tecniche magari questo è un approfondimento. Volevo scoprire, indagare se uno che non ha delle tecniche ha delle chance. Ecco. La mia tecnica era leggere e ripetere, non so cosa ti hanno risposto i ragazzi, se vuoi ti rispondono eh. No, no mi hanno risposto. Mi hanno risposto? Sì, sì. Ho fatto l'interrogatorio. Ti ho fatto bene. Sarà bellissimo, sarà molto motivante, tutta la famiglia. È dentro partire col fatto di crederci, questo è secondo me da quello che percepisco in famiglia. Poi diciamo ci siamo iscritti, li ho iscritti perché io ci credo. Non raccontategli nulla, fateli solo magari il giochino delle parole, vi fate dettar venti parole e gliele dite, così le create l'entusiasmo di iniziare. Ok. Grazie mille, grazie Alessandro. Grazie.